buongiorno proseguiamo il nostro cammino all'interno dei connettivi scoprendone un altro il connettivo se allora questo è un connettivo particolare perché ci vuole in vuole indicare un evento che accade che accadrà se prima se ne verificherà un altro qui ho fatto un esempio se piove allora apro l'ombrello quindi il connettivo se allora corrisponde esprime un equivalenza logica se succede una cosa allora potrò farne un'altra proviamo a fare un altro esempio se mangio tanto la torta la mela la pasta asciutta il pollo e via allora ingrasserò non è molto contento il nostro amico che ha ingrassato che è ingrassato parecchio proviamo a farne un altro di esempio con un riferimento più sulla matematica se 7 è minore di 8 allora 8 è maggiore di 7 posso esprimere anche utilizzando questo schema dove 7 è minore di 8 e 8 è maggiore di 7 come al solito vi invito a scrivere cinque situazioni usando il connettivo se allora scegliete voi in quale contesto volete riferirvi ciao